A voi tutti ben ritrovati, come sempre su Meteo Giuliacci, un saluto cari amici da Giuseppe De Vitis. Andiamo al sodo, le temperature stanno aumentando ma c'è ancora della instabilità o addirittura ci sarà ancora del maltempo. Le temperature poi nel fine settimana aumenteranno, farà tanto caldo ma ne riparliamo. Intanto martedì, come detto, maltempo al nord, con cielo molto nuvoloso coperto, rovesci di pioggia e temporali, guardate che potranno risultare anche di una certa intensità, maltempo anche sulla Sardegna, con piogge, rovesce e temporali sparsi. Avremo instabilità nelle ore centrali della giornata, su buona parte delle regioni centrali, a partire dalle zone interne, ma non solo, anche sin verso la costa, nuvole in transito e piogge sparse anche al sud, in particolar modo su zone appenniniche e poi sulla Sila, avremo invece un generale peggioramento verso fine giornata anche sulla Sicilia. Tempo in peggioramento proprio verso la serata, tarda serata, per nuvole in transito che tenderanno ad apportare anche dei veloci temporali. Vi ricordo di iscrivervi cliccando qui in alto a sinistra al nostro canale e di tenervi sempre aggiornati, invece cliccando qui in basso a destra per entrare nel nostro sito internet. Arrivederci!